La Regione Puglia, i Carabinieri Forestali e l'ARIF insieme per celebrare la giornata nazionale degli alberi, istituita il 21 novembre da una legge nazionale, appunto quella del 2013. Oggi è la giornata in cui i Carabinieri Forestali incontrano gli studenti delle città di Foggia, Vico del Gargano, Andrea, Bari, Lecce, Martina Franca, State e Brindisi, per diffondere la cultura della legalità ambientale. Domani invece sarà il giorno della piantumazione nelle aree urbane e periferiche per renderle più vivibili. La giornata nazionale degli alberi rappresenta da sempre per i forestali, oggi i Carabinieri Forestali, un'attività tra quelle di educazione ambientale che più si avvicina al grande pubblico e alla popolazione scolastica. L'intento è quello, oltre che di contrastare i reati e gli illeciti in danno all'ambiente, anche di prevenire attraverso un'attività di educazione ambientale, per rendere più consapevoli i cittadini, le nuove generazioni, a quanto sia importante l'uso razionale delle risorse, per evitare che gli effetti dei cambiamenti climatici che oggi stanno investendo il pianeta si rilevino così devastanti da mettere in crisi e compromettere la vita del genere umano sulla Terra. Oltre all'attività di educazione ambientale che abbiamo svolto in occasione della giornata nazionale degli alberi, è di particolare rilevanza anche l'attività di piantumazione di aree, anche delle periferie urbane degradate, proprio per significare il recupero all'ambiente, il recupero all'avvibilità di queste zone periferiche del territorio, nonché di altri ambiti in cui attraverso la riforestazione si dà un contributo significativo all'elevazione della biodiversità. Quali sono i reati più diffusi in fatto ambientale? I reati che oggi maggiormente preoccupano il nostro territorio, il nostro paese, i cittadini è l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, i roghi dei rifiuti, l'abusivismo edilizio, l'inquinamento, la deforestazione e tutte quelle forme di aggressione all'ambiente che deturpano le risorse e mettono anche in crisi il paesaggio del nostro territorio, mettono in crisi quelle che sono le bellezze naturali, quello che è il valore aggiunto per dare uno sviluppo sostenibile al paese e quindi anche alla nostra regione. La giornata dell'albero è una cosa di assoluta importanza. Quest'anno siamo ripartiti anche con una ulteriore collaborazione con i carabinieri forestali non gestendo un singolo evento ma gestendo sei eventi nelle sei province con in più un'ulteriore organizzazione della giornata dei vivai aperti organizzata dalla regione Puglia che si tiene il 21. L'obiettivo è quello di rendere quanto più condivisa questa bella iniziativa ovviamente la presenza del Corpo dei Carabinieri è per noi essenziale, vitale perché contemporaneamente raccontiamo una regione che propone i carabinieri che in questa fase ovviamente ci affiancano e collaborano in maniera significativa per trasferire prevalentemente ai bambini, ai ragazzi, nelle scuole una sensibilità che è sempre più necessaria. Grazie.